In questa nuova vibration, Sassuolo-Saternitano, una partita che oggi vinceremo, 100% Dopo vedere tanto, la prestazione con il Napoli non è dispiaciuta, ma sono mancati tiri, che diciamo sono fondamentali per una partita Però oggi con il Sassuolo, io la vedo bene oggi, non so perché io me la sento abbastanza bene Caprallo mi sei ancora disponibile, gioca via, maggiore, c'ha uno di noi diolare Vediamo, vediamo come va ragazzi Non è sublime né la priorità dei difensori della Saternitana Bello, è buono, è buono, è buono Di quei mesi, di quei mesi, di quei mesi, di quei mesi, di quei mesi Sareee! Vai! La difesa qua, la bel lancio E' buono, non ci vedo E' buono, è buonissima, è buonissima E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo E' buono Inumali, metta le gambe Mesmero male Bella, bella, bella E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo a capo da credere guardato a vista da diari incontro operardi prova a cedere lui la luce ma non c'è il caso primo ma che ha preso ciò con la panota con una bella che c'è il fiore un po' lasciar chi la succeda a scuola benissimo per Castiglione per essere riuscito a riuscire a cercare non l'hanno fatto tutto bene non l'avete giunto il fiore non l'avete giunto il fiore c'è un A il movimento di maggiore si muove il tiro eeeh bravo 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 cuno bravo 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 Non si tratta da questa maniera, c'è un gioco semi-automatico, ma ci sono ampie garanzie di efficacia della tecnologia. Guarda, 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 guarda. Mi ha tirato il piede, mi ha tirato, mi ha tirato il fanno in campo, mi ha tirato il piede, mi ha tirato il piede, guarda, 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 guard controllo pallo ma qualcuno è bezzata la storia ai tuoi svelardi per altri disegni alla territoria verso le frelle sono arriva il tutto Buona votazione, mamma mia, grazie per aver fatto un passaggio. bravo Tosso, è in vicino l'azione prima l'azione prima è importantissimo il seguito di questa mancanza all'interno dell'area di vigore e Sassuolo riapre la partita a trovare i gol il campo difensivo della Salernitana tra Maggiore e Canciacente e Salernitana Concioa che non inizia essere attivo sulla sponda di De Fren gol confermato e Sassuolo che di mezzo ha lo svantaggio Pensa a Dio L'ho provato! No, 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 no Ma non c'è da loro Cosa c'è da loro? Cosa c'è da loro? Ma non c'è da loro Non c'è da loro Non c'è da loro Mamma Dio Un po' più Prima poi così C'è fatto due diri in due cose C'è, cambiamo Però ti proviamo Cosa c'è da loro Dalla Nooo Che occasione Che giocata di quei Che paziente che paziente Che paziente Che paziente Che paziente Ma non c'è da loro 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 Io vi ho fatto un bellissimo E' un po' per lì E' diventata un belissimo E' bravo Esce a primo tempo Il primo tempo con 3 tiri Un 2 gol E uno molto vicino E c'è un buon primo tempo C'è uno ovviamente che manco con i quizi, accelerazioni in quei mesi, come ho detto, un po' manesco però non dispiace in realtà, di ha bellissimo gol ma un primo tempo non male nel caso di avere i gol presi chiaramente chiudere il primo tempo con il 2-0 sarebbe stato incredibile ma comunque si può ripartire non dobbiamo pensare di chiuderci dietro tutto il tempo, anche perché abbiamo visto che quando ripartiamo, quando andiamo avanti possiamo essere pericolosi, anche perché loro sono un po' scarsetti rispetto all'avanti sono molto più forti vediamo, vediamo bene o male che non ha tirato bene o male bene o male non è interessante ma perché non la tirano? perché non la tirano? ma che cazzo fa? non è stato un po' che la stoppa ma che ha fatto? ma che è un po' che è un po' che è un po'? ma che è un po' che è un po' che è un po' che è un po' no 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 non voglio sapere mamma mia il suo cazzo di torpe c'eva fatta recupera due gol c'eva fatta recupera due gol perché giochiamo dietro, lo prendi il gol, lo sanno giocare avanti sei avanti 2-0, tu devi scostare il coro rosso da tutti avanti per farli contropiedi ti devi fare i contropiedi, gli attacchi ancora di più su 2-0 avanti il boso ti sale, il boso ti sale perché mi ha fatto il 2-0, ma come puoi non prendere il gioco invece di approfittare del vantaggio, se tu avanti 2-0 devi attaccare ancora di più, devi attaccare a quindicesimo, devi attaccare ancora di più non ti puoi giudere dietro, quello sanno solo che dietro ci sale davanti è fortissimo tecnico non vuoi escluso. lo faccio di perdere la nota e lo faccio della nota lina mia… tutta mia tutta mia Ma quanti sono i nostri? C'erano due, la consiglia! Metti il contatto davanti! Guarda lì quattro e due! Non c'è ancora il tenimento di tre asti! Ma questo è grossissimo a casa! Ma stasera, teni i figli a casa, pure lì i posti! Guardi! Guardi! Che angolo! Ma hai visto che angolo abbazionato? Ma hai visto che angolo abbazionato? Ma hai visto che angolo abbazionato? Graziati, fin da poco graziati! C'è un angolo impressionante! C'è un angolo impressionante! C'è un angolo impressionante! Bravo Aiu! Allora Aiu, sempre forzano! Via! Vazio! Ma io voglio che voi guardate Vazio! Guardate Vazio, vi prego! Guardate Vazio! Io vi prego! E' stato fatto accettare! C'è qualcuno in paradiso che voglio che abbiamo sia fatto! Ma stasera da guardatevallo! Ma guardate Vazio! Vi prego! Guardate Vazio! Io vi prego! Mi prego! E' stato morto San Matteo! C'è il sato, cazzo! C'è il quadro di video di base... C'è quello che è toccato più pazzini! Oddio! Oddio! io penso che faccio e non è facile io non ho parole per scrivere questa partita quello che è successo in questa partita è qualcosa di clamoroso io sono veramente sotto shock per la mattina che ho visto io ho visto 20 persone in una porta pali, travesse, miracoli ho visto tutto questo in una sola partita ed è qualcosa di incredibile io sono veramente sotto shock di come abbiamo potuto buttare una partita di come Sassuolo meritava di vincere questa partita in un modo clamoroso non clamoroso non fa 5 gol noi due tiri, due gol non abbiamo più attaccato finisce qui un punto ce lo portiamo comunque a casa non lo buttiamo sicuramente su avanti 2 a 0 ciao 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 Grazie a tutti.